Le agenzie di viaggio si accingono ad affrontare la stagione turistica con molte incognite in conseguenza dell'emergenza sanitaria per il coronavirus. La Commissione regionale per le attività produttive ha sentito in audizione Salvatore Sulis, membro del direttivo FIAVET Sardegna, la Federazione Italiana Associazioni Imprese, Viaggio e Turismo. «Siamo pronti a ripartire, ma per garantire una vacanza in sicurezza ai nostri clienti abbiamo bisogno di regole certe e chiare», ha detto Sulis, che ha osservato come la pandemia abbia stravolto previsioni che per il 2020 erano assai promettenti e quanto le agenzie si siano prodigate per assistere nel rientro a casa i clienti che al momento dell'inizio dell'epidemia erano in vacanza. Sulis si è quindi espresso favorevolmente sugli ammortizzatori sociali concessi alle decine di lavoratori costretti alla cassa integrazione in deroga e sui voucher, i quali ultimi però fino a smaltimento rappresenteranno per le stesse agenzie un mancato introito. La FIAVET, per il tramite del dirigente di Sarroc, chiede dunque alla Regione un intervento a fondo perduto che favorisca la ripresa del settore con tutta la forza lavoro e l'annullamento totale delle imposte regionali e comunali per un anno, non il semplice posticipo. Inoltre osserva che sarebbe opportuno coinvolgere anche le agenzie di viaggio nel progetto per gli infopoint turistici previsti presso tutte le edicole dell'isola. Per portare i turisti in Sardegna servono regole certe che consentano l'accesso in sicurezza ma con la serenità che deve offrire una vacanza. Ancora non sappiamo quando partirà la stagione né che controlli vi saranno, come si viaggerà in nave e aereo e come ci si sposterà nell'isola. Chi programma un viaggio ha bisogno di avere un quadro chiaro, afferma infine Sulis.